Ciao lecci, benvenuto a un video su youtube, sono ShinDiv e oggi vi spiegherò cosa è successo e quando faccio più live e che sono spinto in questi giorni questo video ragazzi non lo dedito, non ci metto niente musica niente, lo butto così su youtube per spiegare il video se fai il più veloce possibile prima di andare al lavoro allora si parte tutto, 5 giorni fa arrivata una collaborazione su, mi è arrivata un'email con questa collaborazione da fare ho aspettato la sera per risponderli, perché lo sapete il mio italiano non è dei migliori, ho fatto scrivere e rispondere alla mia ragazza, ho fatto un discorso serio, l'ho risposto mi hanno detto di fare un video che mi danno 50 euro se faccio questo video, lo pubblicavo su youtube, lo spiegavo come funzionava il sito ho fatto tutto questo video, tutte le procedure, l'ho fatto, entro il 28, 28, mi rivelo il link, mi hanno detto va bene, cambia il titolo e tac ho cambiato il titolo e tac, ho pubblicato su youtube, dopo 20 minuti ho trovato lo strike per colpa loro, e loro, loro, la prima volta che succede, trovo la prima volta, oh cos'è succede la prima volta, contattate youtube, ditelo, oh si contatterà, si contatterà, e quindi scendiamo la pesa nel culo, nei 50 euro, peso lo strike, 3 mesi senza live sul canale, vi ho chiesto a voi cosa devo fare, passo a twitch, ho trovato il canale youtube, per fare live, voi avete scelto che devo creare un altro canale youtube, lo ho fatto, stasera spero che mi ... perché lì ci vuoi un giorno, vi attivare le live su ogni canale, non vi ho chiesto, se non accettano, se riva a te, cioè da strike, se da nulla, lì, scendemi 13, questo nuovo canale, scendemi a giugiui 13, appare lui, qui stasera va, si inizia, insieme, come si è sempre fatto, come si è sempre fatto, con i 15 fedelissimi, vi aspetto, Se ci siete, Shinidivi è sempre qua, con pigiamento dell'unicorno, con tutto. Io spero che ci sarete stasera, se parte, non lo so, ve lo dico su Instagram, se me l'accetta, sul nuovo account. Niente, su questo canale qui non morirà, ragazzi, 4-5 video a settimana. Pensate, non ce l'ho anche l'app per editar i video, ormai qui è la fine. Ma Shinidivi non morirà, Shinidivi è qui, e lotterà, per sempre, fino alla fine resterà su YouTube. Ciò che accade, accade, Shinidivi resta. Ma dovete restare anche voi, mi raccomando. Mi raccomando, da qui Shinidivi è tutto. Se parte stasera, faccio un breve video dove dico, sono in live su questo canale, e lascio il link in iscrizione. E tocca a voi. Appena arriva la notifica, oh, Shinidivi ha pubblicato un video, è live, è live sull'altro account, andiamoci a vedere Shinidivi, è tornato. Mi raccomando a lerci, conto su di voi, e partiamo da zero su quel canale. Però Shinidivi quello vero resta, 4-5 video a settimana, aspettando i 3 mesi, sono lunghissimo. 87 giorni ormai, mancano, sono quasi solo 3 giorni da quello accaduto. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se ti vi piace, io che chiacchierò, io spero che tornete live, a guardarmi, a farmi accompagnare, come avete sempre fatto. Ci saranno poche persone, non ci saranno nessuno, non farò più quei 300, 200 visual video, ogni live, lo farò 8, 20, 10. Insomma, inizio, ho zero iscritti su quel altro account. Tocca a voi, bisogna iscrivervi e essere fedeli come una volta. La visione di me è tutto, mi raccomando, lasciate like, ci becchiamo stasera se parto nei live, faccio un breve video dove dico che sono in live su quel altro account. Non vi dico nulla, però c'ho un video da iscrivervi, vi aspetto serie, faccio i brevi video, 10 secondi, sono in live qui, venite, correte. E niente, ciao a tutti ragazzi, buona giornata, buona sera. Domani o domani l'altro uscirà un nuovo video su questo canale, poi apro 30 chest su Brawl Stars. Ciao ciao, ho parlato a film troppo. Ciao ciao.